ciao oggi è il compleanno di martina otto anni chi ci sarà la sua festa andiamo a vedere mamma a che ora arrivano gli ospiti? tra poco vedrai che sono vicini eccoli ci sono pino il topolino il pepiro suo amore e il micio maramaolo papà voglio compleannare anch'io ma paolino non si dice compleannare si dice festeggiare il compleanno non mi piace il tuo compleanno è tra qualche settimana vedrai che faremo una bellissima festa anche per te adesso divertiamoci dai ragazzi dobbiamo organizzare una bellissima festa anche per paolino ok? certo di sicuro martina paolino e gli animaletti giocano rincorrersi finalmente inizia la vera festa martina e i regali? li guarderò a casa il regalo più bello è il mio fratellino brontolone è ancora piccolino quante cose deve ancora imparare dimmi qui che ti abbraccio auguri martina l'amore delle persone che ti vogliono davvero bene è molto potente fai anche tu come martina e paolino l'amore delle persone che non sono più potente fai anche tu come martina e paolino l'amore delle persone che ti vogliono davvero bene è molto più buon Grazie a tutti.